Con la riapertura dei musei sono ripartite anche le attività del MEAB, il Museo Etnografico dell'Alta Brianza. Si parte con l'inaugurazione di una mostra dal titolo Il Cibo di Tutti, il 16 maggio. Sì, abbiamo deciso di dedicare questa esposizione, che è accompagnata da tre documentari, al tema della panificazione, seguita attraverso il lavoro di famiglie di tradizione del mestiere, che sono stati oggetto della nostra attenzione, possiamo dire così, attraverso uno specifico documentario, a cui abbiamo affiancato un documentario sui pani nei musei etnografici e un altro documentario sui pani dei cittadini stranieri che arrivano in Italia e poi portano le loro tradizioni. Questi tre documentari sono stati prodotti nel 2019 a seguito di un invito che abbiamo avuto a Matera, nell'anno della capitale della cultura europea, per una mostra collettiva di cinque musei etnografici italiani. La mostra presenta oggetti che hanno a che fare con la coltivazione, la produzione e la lavorazione del frumento, una parte dedicata all'agricoltura, che poi si prolunga idealmente attraverso il passaggio dai mulini nella lavorazione delle farine, che sono tra gli ingredienti fondamentali dei pani. E qui la parte della mostra che riguarda gli oggetti, gli strumenti di lavoro dei panettieri di professione. Ricordiamo come si può venire a visitare la mostra, visto che comunque ci sono ancora una serie di regole per l'emergenza sanitaria. Si viene al museo attraverso una prenotazione, andando sul sito del MEAB appunto, a cui noi rispondiamo in modo da consentire l'ingresso contingentato. In particolare per la giornata di domenica 16, giornata di inaugurazione, ci saranno quattro orari di ingresso, perciò vi aspettiamo. Speriamo numerosi, ma non troppo. Speriamo numerosi, ma non troppo.